Dopo 13 giorni di latitanza è stato bloccato in Romania l'8 luglio scorso, grazie ad un mandato d'arresto europeo emisso dal giudice di Pesaro. Verrà estradato in Italia il 31 luglio Marcel Ionut d'Orca, il muratore romeno di 24 anni, accusato di aver rapinato e sequestrato una signora di 79 anni a Fano, per la quale aveva svolto alcuni lavori in casa. Il 26 giugno l'anziana era stata derubata, poi trasportata a forza sull'auto di sua proprietà fino a Dardia, città del Lazio. Una volta arrivati sul posto l'aveva minacciata di morte qualora avesse tentato di fuggire e si era allontanato dall'auto. Proprio in quegli istanti di assenza la signora aveva chiamato il 112 e chiesto aiuto ad un barista lì vicino. Pochi giorni dopo d'Orca è stato rintracciato in patria a Coltirea Marfa Mores. L'arresto, disposto dal giudice per le indagini preliminari di Pesaro, è avvenuto tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia sirene in collaborazione con la polizia romena. Sembra che il muratore stesse per trasferirsi in un paese non facente parte dell'Unione Europea per sfuggire alla cattura.